Amici di Pupia, come a tanti è noto, aversa a due stazioni della metropolitana a verso centro, collocata sul lato nord e a verso il podere, collocata verso il lato sud per raggiungerle, chi non ha conoscenza della città basta che segua le indicazioni, ma attenzione per chi ha collocato i cartelli indicatori a verso centro e a verso il podere sono dalla medesima parte un errore fatto con convinzione, tant'è che basta attraversare la strada per averne conferma, anche qui, su questo cartello della metro campania a verso centro e a verso il podere sono dalla stessa parte entrambe dal lato sud